Il mondo del food per me rappresenta una parte fondamentale nella nostra vita e durante il nostro evento cerchiamo di unire estetica, gusto e presentazione seppur nella sua semplicità cerchiamo di dare la massima espressione culinare I nostri catering si presentano a chioschi in modo tale da avere la visione a 360 gradi della nostra esposizione Un sapore perfetto è dato dall'insieme perfetto quando si unisce un buon catering una bella atmosfera della bella musica una buona animazione e perché no anche un bagno in piscina la bella musica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.